Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione nutraceutica. Andiamo a leggere la motivazione insieme. Grazie al know-how e all'expertise dovute a una conoscenza approfondita del mondo della nutraceutica, Farma Barocco si è posizionata all'interno del contesto italiano come un partner affidabile e di alto livello, capace di offrire un prodotto studiato e controllato dalla formulazione fino al confezionamento. Il premio va appunto a Farma Barocco. Saluto in collegamento con me Antonino Liuzzo, amministratore unico di Farma Barocco SRL. Ben trovato, grazie per essere qui. Salve, salve, grazie a lei e grazie a voi. Ecco, il grazie è accompagnato appunto a un commento a caldo per questo riconoscimento. Sì, infatti grazie alle fonti, al Comitato Scientifico per questo riconoscimento prestigioso che ci inorgoglisce e ci onora. Soprattutto diciamo anche in questo periodo un po' particolare, un po' per tutti noi infatti. Quindi io mi trovo qui da solo in questo momento, però ci tengo veramente, non voglio mancare nel ringraziare tutte le persone che collaborano con me, chi collabora assolutamente, ma anche i collaboratori che lavorano in Farma Barocco. Certo, tutto il team assolutamente, i complimenti vanno a tutti voi, anche se poi lei è in collegamento con me. Ovviamente abbiamo sentito quali sono i punti che sono stati messi in evidenza nella motivazione. E tutto è collegato al periodo che lei ha già ricordato che stiamo vivendo, un periodo sicuramente complicato e particolare. E però emerge questa parola, partner affidabile, in un periodo in cui tutto è insicuro, l'affidabilità insomma è la prima cosa da mettere in lista. Sì, infatti, infatti noi il nostro principale scopo, obiettivo è proprio quello di dare sicurezza, certezza grazie ai nostri prodotti e soprattutto ai pazienti, alle persone che poi sono gli utenti finali dei nostri prodotti. I nostri prodotti nascono, perché sono affidabili? Nascono da una intensa, accurata e scrupolosa fase di ricerca e sviluppo. Noi partiamo dallo studio delle piante medicinali, dallo studio degli alimenti funzionali e dai loro principi attivi, farmacologicamente attivi. selezioniamo le migliori materie prime al mondo, anche tecnologicamente innovative. Quindi è questo mix tra natura e tecnologia per poter formulare quindi dei blend, delle sinergie tra i principi attivi che danno vita al nostro prodotto proprio per poter realizzare quello che è l'obiettivo che poco fa dicevo. Qualità della vita migliore per i pazienti su un prodotto sicuro, quindi affidabile, ma nello stesso tempo un prodotto che sia uno strumento efficace nelle mani dei professionisti della salute. Quindi i medici, i biologi nutrizionisti che possono così raggiungere i gost terapeutici per i loro pazienti in maniera appunto sicura, efficace, con il prodotto più biodisponibile in termini di assimilabilità e di studi scientifici alle spalle. Insomma, in questo momento tutte queste cose sono ancora più interessanti. Ecco, prego, prego, continui pure. Sì, no, volevo solamente dire che l'affidabilità noi la basiamo anche e soprattutto sugli studi scientifici, che in questo momento infatti come diceva lei dovrebbe essere un po' il filo conduttore, di tutto quello che muove le nostre decisioni e le nostre azioni. Quindi noi affermiamo che i nostri prodotti sono validi perché sono gli studi alle spalle che lo affermano. Non ultimo abbiamo recentemente avuto una pubblicazione scientifica su un nostro prodotto, frutto di uno studio effettuato insieme all'Università degli Studi di Catania nel CNR di Bari, dove dimostriamo efficacia e biodisponibilità in un studio in vitro appunto di un nostro prodotto pubblicato su una rivista internazionale molto prestigiosa. Quindi è lì che noi basiamo la nostra affidabilità sulla scienza. Beh, certo, con degli strumenti certi, assolutamente, insomma, è la cosa migliore per poi raccontare quelli che sono i punti di forza. Insomma, quindi continuare così anche nell'immediato futuro. Sicuramente, sicuramente tra gli obiettivi nostri è quello di mantenere questa nostra strategia. Ecco, lo sguardo sempre al paziente, alla scienza e ai professionisti della salute, ma è provare ad ampliare il nostro raggio d'azione. Quindi stiamo già mettendo in atto una serie di mosse, di strategie per ampliare il raggio d'azione. Questo premio, questo prestigioso premio, lo ribadisco, ci sprona a fare meglio e ci indica che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta ed è quella corretta. Assolutamente sì. Quindi, insomma, io non posso far altro che rinnovare i nostri complimenti a tutti voi, al team di Farma Barocco e naturalmente a lei che è intervenuto oggi, Antonino Liuzzo, l'amministratore unico di Farma Barocco SRL. E ancora complimenti appunto e alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Grazie, grazie.